Il gruista dell'anno è la gara di abilità professionale ideata dalla Scuola Edile di Piacenza, con il sostegno del Formedil, ente nazionale di coordinamento delle scuole edili, diventata ormai una tradizione. Continua ogni anno a indicare i più bravi gruisti che lavorano con grande orgoglio, con correttezza professionale e in sicurezza. La gara, con l'aiuto di vari prove e il giudizio di una giuria di esperti, seleziona i gruisti più bravi tra i concorrenti arrivati da tutte le parti d'Italia. Io credo che appunto il clou sia legato alla nostra volontà di dare dignità e valorizzare la figura del gruista. Il fatto che il nostro paese abbia un certo numero di bravi gruisti noi lo consideriamo un patrimonio. Come consideriamo patrimonio? Non so, tanto per fare un esempio, i patrimoni architettonici, i patrimoni artistici. Insomma, il fatto che ci siano dei bravi gruisti e che ci sia una buona tradizione di saper fare bene il gruista, per noi è una ricchezza che il nostro paese deve tenersi e, se possibile, sviluppare. Per far questo nasce e si sviluppa il gruista dell'anno in questi cinque anni e speriamo che vada ancora avanti. In questa nostra storia, e va detto con molta chiarezza, il rapporto qui a Piacenza con FM e gru è stato fondamentale. Fin dalla prima edizione abbiamo avuto un rapporto con FM e gru che è stata grandemente ospitale che ha avuto con noi sempre un atteggiamento di essersi, sentirsi coinvolta, chiamiamo così, nel progetto. Quindi non solo, e questo è già tanto, di darci le macchine, di darci i piazzali, di darci assistenza, di darci tutto questo, ma anche noi li consideriamo parte del nostro progetto di miglioramento della formazione, perché alla fine il gruista dell'anno è un pezzo della nostra formazione, a tutti gli effetti. L'azienda costruisce nel mondo gru sempre più grosse, sempre più alte, quindi facciamo gru alte 150-200 metri d'altezza, 250 metri d'altezza con grossi pezzi. Per il mercato che tristemente non è quello italiano. No, che non è il nostro mercato, che è il mercato extra-UE, che tocchiamo a tanti stati del mondo, dalla Turchia, dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, e iniziamo con i paesi africani. Ma noi mandiamo tecnici, sempre, ogni sei mesi, mandiamo tecnici in giro per il mondo, formati da noi. Negli ultimi 40 anni abbiamo visto, diciamo, la tecnologia che ha fatto passi da giganti, dal punto di vista più che altro, più che meccanico, dal punto di vista... Esatto, l'applicazione dell'elettronica, sofisticazione, diciamo, delle cabine di comando, l'avvento del radiocomando, che è servito tantissimo anche per quanto riguarda la sicurezza. Anche i sistemi di sicurezza? Esatto, beh, esatto, sì, 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 una volta non esistevano quasi i sistemi di sicurezza. Grazie ai vostri corsi la professionalità è aumentata, cioè, lo ammetto, perché lo vedo, lo vedo, lo vedo sul cantiere, proprio. La manifestazione punta a dare il valore più profondo alla professione di gruista e alla presenza nel settore delle costruzioni, spingendo i lavoratori ad adeguare la propria preparazione alle normative attraverso la buona formazione. La responsabile della manifestazione, architetto Cristina Bianchi, si ritiene soddisfatta. L'agroista è una qualifica, ci trovavamo nel periodo in cui uscivano le normative per la formazione, il formad era molto attivo da questo punto di vista, si cominciava a parlare delle prime agende formative e allora insieme a Claudio Tombari abbiamo pensato a questo evento, che è un evento bonario, anche per riunire tutti i lavoratori del settore delle costruzioni. L'obiettivo è quello di dimostrare che le persone che lavorano all'interno del settore delle costruzioni, i gruisti in particolare, hanno abilità e competenze per restare sul mercato. Dopo cinque anni di esperienza ritengo che questa gara sia ancora al top, sia da mantenere assolutamente viva, perché in questo momento è uno dei fluidi che possono dare significato ancora al settore delle costruzioni, cioè un rilancio del buon lavoro. Il sostegno che si dà ai gruisti è quello di poter spendere questo certificato di competenze anche all'interno degli altri paesi europei. Quest'anno sono stati quasi 30.000 i lavoratori che sono passati nelle scuole dili per fare dei corsi di adempimenti formativi obbligatorio, dei corsi di aggiornamento professionale sulle apparecchiature di sollevamento del movimento terra. Per noi è un grande piacere, un grande onore, un grande grazie. Che va dato qui alla Foghe Milanesi, che ci ospita nel suo piazzale con le sue attrezzature ed anche alla Scuola di Le Piacenza, che ha avuto questa intuizione iniziale di questa gara che poi è diventato un patrimonio di tutto il sistema. In questo momento c'è la crisi delle costruzioni in Italia, speriamo di superare questo momento difficile per cui ve ne sono tanti, anche bravissimi, che sono in difficoltà dal punto di vista lavorativo. Non basta essere bravi, noi abbiamo bisogno di una ripresa delle costruzioni, tutti lavoriamo in questa direzione e vogliamo però mantenere e difendere questo presidio di qualità professionale, di risorse umane e di eccellenze. Quindi sì, signori della gruma, soprattutto lavoratori specializzati che sono al servizio del cantiere sicuro e sono al servizio di un'impresa di qualità. Alto livello della manifestazione, la volontà di ogni partecipante di mettere in mostra le proprie capacità in un dimestiere che è decisamente importante, sia per l'organizzazione del cantiere che per la sicurezza sul lavoro, rende la competizione tra i concorrenti accesa e interessante. Faccio il gruista da 40 anni, dal 1974. Oggi sono qui per rivedere tanti colleghi, amici, perché poi qui si è creato un clima veramente festoso e di amicizia. Ci scambiamo un po' di pareri sull'edilizia in generale, perché non sta andando bene ultimamente. Tanta gente, tipo le imprese, si affidano molto a gente qualificata, a gente esperta. Però il momento è un po' buio anche per noi bravi. Anch'io sono già in disoccupazione da un paio di mesi e aspetto le imprese che ripartano qui in Italia, perché all'estero avrei tante scelte. Ma siccome è alla mia età, un po' non me la sento, o per l'età, o per la famiglia, per non lasciarla. Aspetto che qui parta qualcosa in Italia. Nel frattempo mi alleno e mi tengo pronto alla partenza. Ho fatto la gara. Speriamo di essere andati meglio dell'anno scorso, che sono arrivato terzo. Quest'anno speriamo di arrivare un pochino meglio. Ho potuto portare delle macchine un po' più specifiche, avendo fatto questi corsi e anche le gare stesse. Io rappresento Roma e ringrazio il CEFME di Roma di avermi dato questa possibilità di venire qui a fare questa gara. La manifestazione di Piacenza è ormai divenuta una tradizione per il sistema delle scuole edili Formedil. Porta avanti, attraverso un carattere festoso, l'orgoglio professionale dei gruisti. Dai 60 concorrenti venuti da ogni parte d'Italia, che si sono confrontati in questa gara di abilità e di professionalità, sono stati individuati 13 vincitori, che si sono dati appuntamento per la finalissima al Saie di Bologna il 24 ottobre, a partire dalle ore 13. E' lì al Saie che si contenderanno il titolo di gruista dell'anno 2014.